Vai, sincronizza, bla 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 La tigre del farweb che gioca a Minecraft Con qual volume che c'è Yook 43 Ciao a tutti ragazzi, sono Yook E benvenuti in questo nuovo episodio della Techit Con Peppo e Chip Ciao a tutti ragazzi, ciao belli Ciao ragazzuoli, ciao ragazzetti Oggi noi faremo le eee Due E se non metti Il pollice in su Non ti facciamo un bucio ne culo No ma non è un bucio ne culo Allora io devo farle imparare Questa roba che Cosa? Perché l'ho fatto imparare, sei la Gloss Block Ragazzi oggi faremo la eee E vaffanculo E vaffanculo L'energy collector Allora facciamo l'energy collector, per cui fate due blocchi di diamanti Ok su, subito Facciamo subito Ok presi i diamanti Facciamo subito il blocco Blocchi Allora Uno Quanti te ne servono? Due? Ti mi hai picchiato Eh Non lo so Eh io Aia Mi hai tolto 18 cuori Oh Lu mi picchiano Aia Ma l'angulo va Mi stai continuando a tolto il cuore Tieni Ti ho messo due blocchi Dentro la crafting table Eh dentro la crafting Poi ti servono due fornaci Vabbè è possibile che Pepe muore sempre di fame? Eh ho mangiato tanto Due fornaci Te le faccio immediatamente Ah c'è il diamanti c'è Aspetta un po' su tutto Ok Due fornaci Ah le messe le fornaci Perché serve il vetro sopra Perché serve il vetro L'ho detto anche Serve il vetro Serve il vetro Vado a pallizzare Eh vai a fare un tantino di vetro Lu Pepo Vai C'è la fornace che non c'è che colbrone Allora Aspetta Ma vediamo se Sta arrivando la notte Se non dormiamo Abbiamo le zonate Pepo ho trovato il vetro Hai trovato? Dai abbiamo il vetro Pepo andiamo a dormire Vai arrivo Metto a cuocere Io sto dormendo Sto dormendo Buonanotte Arrivo Eh vabbè Pepo sempre Tanto ragazzi Come vedete vi sto rilasciando l'IP del server Scemo Ghilage Chi ha letto è scemo Mene sbias Mene sbias Mene sbias Se volete vi racconto la barzelletta Finito Oh mamma mia Che burlone signori Vi racconto la barzelletta sporca Non che lui ci seguono Ci seguono bambini No Vabbè dai Penso di no Te racconto Eh una Solo una Sì ok Aspetta che ho fatto imparare il vetro Casomai Ve la racconto Vai 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 Dai Dimmi Allora C'era C'era una volta Un signore Che rimane a piedi con il tir Sì E Come si dice Rimane a piedi con il tir No Rimane a piedi con il tir E la va in un albergo Va in un albergo E gli dice Senti Ho bisogno di una camera E lui dice Guarda Non ne ho camere vuote L'unica camera vuota che ho È al tredicesimo piano Ok Però la notte succedono cose strane Per cui non crede Che tu voglia Il farmacista Il farmacista Il gommista Il tirista Il tirista Era talmente stanco Che dice No no Io voglio per forza dormire Perché devo dormire Certo E per cui la prendo al volo Ah ragazzi Siamo uno sette ossidiane Sette ossidiane Te la faccio subito Prendi la nefana E la cosa va dentro Infatti E allora Arriva la prima notte E arriva la notte E gli bussano la porta Tonk tonk E il camionino E il tirista Chi è? È una voce Una donna Dolce Che gli dice Se mi apri la porta Ti faccio una cosa Con la lingua Eh vabbè Sì E il tirista Un po' Però è più la stanchezza Che la vogliono Allora Non mi interessa E torna a dormire Quanto te ne serve Di ossidiane? Sette Sette Dopo cinque secondi Ribussano la porta E il tirista Chi è? Se mi apri la porta Sette Ti faccio anche Una cosa con le mani Il tirista ci pensa No? E Non mi interessa E torna a dormire Dopo altri dieci secondi Il tirista La porta bussa Chi è? Se mi apri la porta Ti faccio anche Una cosa Con gli occhi Eh vabbè Non mi interessa E se ne va Ok Chi è? Se mi apri la porta Ancora Ti faccio una cosa Con le dita Eh vabbè A questo punto Il tirista Foga dalla sua Preda al panico Della sua Voglia Della sessualitaggine Eh Apre la porta E si ritrova Dopo la strontata Ho capito Di chiudere il video Ok Allora L'abbiamo fatto? Lui l'ha preso quel coso Si Quello di Ossidiana Si l'ho preso Vai venite qua Ok Allora Arrivò Arrivò Però Ci vorrebbe servire una casa Noi facciamo tutto all'aperto Oh Facciamo questa serie Tutto all'aperto Tutto all'aperto Tutto all'aperto Gazzetti Ci sono i paletti No 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 Sotto i gazzetti Va bene Va bene Facciamo i gazzetti Si Ok ci sto Facciamo i cazzutti Vai Allora Noi fottiamo il sistema Facciamo i cazzutti Va bene Ci sto Ci sto Vai Allora questo è il relay Ok Se lo aprite noterete qualcosa di strano Si Che cavolo è Se mettiamo questo di fianco Aprite il relay Comincia 10, 12, 14 Perché questo è l'accupulatore di energia E il relay è quello che lo contiene Ok Ah ho capito Te ne ho capito Ci serve quella per iniziare È la clean start Ora se noi prendiamo un pezzo di carbone E lo mettiamo in quello giallo Guardate che succede Cosa succede? Oh Sta Aumenta Che il carbone diventerà gun power La gun power A sua volta Diventerà qualcos'altro Facciamo il giro completo Vediamo cosa diventerà la gun power Logicamente va tutto in base a queste Se noi mettiamo la glowstone Dovremmo andare anche un po' più veloce Un po' più veloce Vediamo un po' Beh non tanto Non tanto più veloce Non tanto più veloce No 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 Sta migliorando Un po' più veloce va Non si nota Perché ce n'è uno Di questi dovremmo metterne 12 Vedi un po' Minchia Ma faccio cavolo Perché faremo le piramidi Quelle a cupola Ah A cazzetti Ah Capito Che li metteremo sotto i cazzuti Ah Che figata Capito Cos'è? Cos'esce? 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 È diventata glowstone La glowstone a sua volta Poi ogni volta che si trasforma Diventerà sempre più pesante Fino ad arrivare alla polvere che serve a noi Ah Perfetto A noi servirà il fuel Non mi ricordo Il fuel Cercatelo Fuel Fuel Allora Eccolo qua Quello grigio ci serve No quello rosso ci serve Il Mobius fuel Il Mobius fuel Perché grazie a quello rosso Se andate sopra e cliccate sulla U Vedrete tutte le cose che si possono fare Possiamo fare Il destruction catalyst Che figata l'anello Che figata l'anello Però a noi servono L'alchemical L'alchemical coal Che sono meglio ancora Premette la U Grazie a quelli Poi possiamo fare Lasciate stare Meglio di no Eccolo Eccolo Guardate dentro Oh l'ho fatto Alchemical coal Oh eccolo 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 Alchemical coal Ora l'alchemical coal diventerà Mobius fuel Che è quello che serve a noi Perché grazie a quelli Faremo La clean start La clean start Ce ne serve 8 16 24 Se scrivete clean start La prima clean start si fa Con 8 di quelli Un diamante Perfetto Ce ne servono 8 per 3 24 Sinceramente me ne serve uno Perché glielo facciamo imparare Al Traduzione Un table Bravissimo Anzi a proposito Ne prendiamo uno Facciamo già imparare questo Bravissimo Che è quello base Perché ci seguirà Anch'esso E poi Facciamo diventare Mose Un brulele Aspetta Damelo pure a me Che lo faccio imparare pure io Vabbè ormai Dai però veloce Faccio subito Faccio subitissimo Chi è che ha spaccato Sinceramente comunque Chi è che ha spaccato qualcosa Eh io Ah ok Ma se metti altre glowstone qua sopra Teoricamente diventa più veloce No Ok Lo metto dentro Lo metto dentro Eccolo Oh il blaze powder Blaze powder Ma facciamo imparare un po' tutto Facciamo imparare un po' tutto Così è tutto pronto A verità E' giocca Oh ma tutto bello E' buon fordito Questo è il nuovo singolo Di Pino Daniele A mentre si è scontato Sto approfittando La perda La perda La smontiamo eh Oh to' facetelo imparare questo Oh è vero Bravo Allora No tanto lì non ce lo fa Allora niente qua Vai Mi serve Mi l'hai rubato Che ti serve Mi l'hai rubato Che ti serve Mi l'hai rubato Mi l'hai rubato Mi l'hai rubato Ah no lui E' nel E' questo E' nelle due Ok l'ha preso Pepo Ok hai messo nelle due Logicamente non mi darà il mio spool Allora se io metto questo E prendo due diamanti Metto il diamante Non mi darà mai il mio spool Nulla Abbiamo della cosa verde Eh polvere verde Oh ne abbiamo cinque Anicolite Tu lo dici No che è nicolite Ah bravo Perché col spool possiamo prendere il spool E infatti eccolo qua Vale 512 Ne posso prendere quattro Due Tre E una quattro Forse anche cinque Forse anche sei Forse anche sette Forse anche otto Egitto 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 Vedete qua Guardate Con quattro di questi Sì Ok E la nostra philosopher stone Facciamo uno di questi Oh il mobius fuel Bellissimo Avete capito? Yeah Nice Glielo facciamo imparare direttamente Così craftiamo direttamente questi Bravo Che costano Due mila Perché grazie a questi verdi Le prendiamo due Uno E' una due Uno E' una due Uno E' una due Visto che non abbiamo materiali sufficienti Io direi di fare una clean star E solamente uno Usa la transmutation table Ma la usi Sì vabbè No la usi tu A sto punto la transmutation Vai Vi lascio il diamante Sì Di modo che Non consumiamo 18 miliardi Quando avremo un sacco di cose E faremo tutte le farm Di ferro Eccetera eccetera Facciamo tutto a tutti Ma Ho la prima Clean Sprax Fatela vedere Fatela vedere I vostri fanza Eccola qua Eccola qua E ma devi dirglielo Fanza guardate Fanza guardate Fanza guardate Fanza 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 Faglielo vedere la pepa Bleh Schifo No No ragazzi Ho la clean start Eh non ce l'hai più Eh mo me la ridaghi Dove mangiare Ma io il primo F Non me la fa vedere Lu Ah ma Non è necessario Ma che pirro Lu Se me la dai un attimo Ti ricarico un attimo La clean start Guardate Ho ricaricato la clean start Ora posso prendere Tutto quello che voglio Avete una bistecca Un panino Eh beh Lu Se me la dai si Dammi un attimo Che ti ricarico pure la mia Aspetta eh Ma per l'altro la mettiamo qua La mettiamo qua in una chest E la usiamo tutti Tieni Lu Guarda Guarda quante ce n'è E' più la bistecca E' più la bistecca Tenga Dammi la bistecca Ok te l'ho data Oh fai cibo Pure cotta eh Pure cotta Guarda quanta Guarda quanta energia c'è Bistecche Bistecche Mia 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 Tutte mie Tutte mie Tutte mie Ah Finalmente La eterni la list fuel Si Quello lì Oh vale quanto il diamante Va all'8192 Vale quanto un diamante Bravo Vabbè comunque Secondo me possiamo già Andare avanti Perfetto E facciamo qualcos'altro Dai No aspetta Volendo possiamo prendere i diamanti E fare altri di quelli Allora gli diamanti Io ce n'ho tre Nel massi tre No io Da bene tutto a me i diamanti Allora te li metto dentro La crafting table Ma dai a me Ma perché Porca di quella luce Allora 16 diamanti Oh io c'ho dell'iron Però Non c'abbiamo il pulverizer Ma quanti i diamanti Aspettate aspettate Guardate Ma erano solo tre Allora Mi serve una fornace Eh si subito Vai 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 Già fatta Già fatta E altra gluston Dove ho messo la gluston Prima Fornace Oh ma stai vando Già notte Porca logia Che veloce E' dentro Ok uno di questi Poi mi serve Questo qua Raga la notte Dobbiamo andare a dormire Eh si per forza Se noi ci ammazzano Ok glowstone Ti serve tanta glowstone No l'ho fatto Ho fatto Ho fatto Ah ok Che poi che pirli Facciamo io l'imparare A glowstone io l'ho fatto Vale 82.000 questo Faccio imparare anche l'altro Uuuu Non ci sono pensato a sta cosa Ma si possono fare pure imparare questi? Si Ah Noi siamo pirli Questo vale 74.000 Ah vale più quello di quello Ok Perfetto Noi siamo pirli Guardate Li mettiamo l'altro di fianco Bam Aspetta Le dovrebbe caricare Eh notte Logicamente non carica Ah perché Quindi andiamo a dormire Peppo viene a dormire Viene a dormire Vai Andiamo a curcare Oh io sto accurcato Ma il vetro Ma il vetro Il vetro è dentro la fornace Ma il vetro È dentro la fornace Però vi parlate Uno sopra l'altro Non ve ne rendete conto Il vetro Qua Ma il vetro Qua Eh non ce n'è lui Ma il vetro Eh non ce n'è finito Morto Ok Vai qua Allora mettiamo un altro Dove sei Bam Che cacchio ho messo Ok Mettili tutti nella stessa direzione Bam Bam Che figo E bam Guardate Bamba Non va Non va Non va Non va Perché non va Dai che non va Perché sta arrivando tutto dietro Guardate Guardate Ma viaggia Madonna quanto va Guardate come viaggia Guarda Eh Appena finisce di caricare uno Si caricherà Adesso questo Deve arrivare a 8000 Arriva a 8000 Diventa quello bianco E finisce il ciclo Ah E tutta la Tutta la E Tutta l'energia Andrà in quello nero Che è il nostro bel relay Uh Per esempio nel relay Possiamo bruciare la roba Se io metto Della terra La brucia Eccolo è vero E l'energia Naturalmente va dietro La brucia E l'energia sta andando dietro Guarda Guarda raga Logicamente Logicamente bruciando la terra La terra vale 1 Ogni terra è 1 Eh naturalmente Oh Lu Figata Però qua Andremo a bruciare Quando metteremo i query Tutta la roba tipo Terra Sand Che non ci serve Andrò qua a bruciare Allora io te la metto nel relay a sinistra Ma secondo me è da bruciare Guarda qua No questi sono i tungstero No Va messa qua E mi prendo i diamanti Boom 8 diamanti 8 diamanti Visto Visto che bravo Quindi non scusi Bisogna provare 8 diamanti Ha trovato GG Mamma mia Che faiato sta cosa Almeno facciamo energia No adesso Doviamo a finire il ciclo qua Il tempo che è 8000 Che poi volendo Vabbè Glielo facciamo fare Perché almeno arriva quello bianco Sì E Glielo faccio imparare La test mutation breath Sì E poi basta E poi tutta l'energia La mandiamo al relay E facciamo Riempiamo il clean star E facciamo diamanti Figo Diamanti a go go Ci sta Diamanti a go go Anzi volendo Potremmo fare una cosa bellissima Potremmo fare La chest quella Che duplica Lenderio La chest che duplica Che è L'energy condenser Bravissimo L'energy condenser È la chest che tu gli metti Un oggetto E lui te lo continua a duplicare No Bellissimo Guarda come si fa No vabbè Non ci vuole un cacchio Lo possiamo fare anche Volendo possiamo fare già gli zaini Facciamo gli zaini Vai Gli zaini ci sto Da oggi ragazzi L'episodio tutto è Bellissimo Allora gli zaini Si chiamano Allora Sarà tutta la serie Com'è che Gli zaini Com'è che si chiamano Gli zaini sono Bag Bag Eccole qua Bag Allora Dobbiamo fare prima la chest Per cui Verde Due cose Ok perfetto Guardate qua Era verde Azzurro E blu Perché vanno in fila Si Poi erano due di questi Mi servono tre chest Chiede Tre chest Grafale tu chip Io sto facendo Faccio io Faccio io Intanto prendo della legna Faccio io Ok Vabbè andato prendo della legna Casomai Ciglio chip Fatto Vabbè Fatto Dovete cuocermi della Perfetto Della stone Ok Visto 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 Del ferro Ci serve del ferro? Lo metto a cuocere Indubbentamente Io non l'ho messo a cuocere Perché dovremmo fare anche Ci serve un ferro Un ferro Il macinatore Ok Un ferro Metto subito Un ferro Oh ma non funziona Lo c'è Un ferro Un ferro Lo sta facendo Lo sta facendo È abbastanza veloce pure Dai Su Muoviti Un ferro Fatto Fatto Eccolo qua E una stone Vai Te la metto dentro Una stone Fatto Vai Eccola qua Abbiamo le tre chest Grande Ora era così Sì Se non erro mi sbaglio Yes E tutte lane Cinque lane Cinque, dieci, quindici lane Ne basta una la duplichiamo Quindi Ne abbiamo quattordici raga Ah 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 Vai vai Perfetto GG Ricordate di lasciarne sempre una nelle cesse Che se ci serve Oh la clean star Lu Dobbiamo poi duplicare Ti stai perdendo la Dammi la clean star Eh te la butto addosso eh Tiè Ragazzi Avete colori? Abbiamo un rosso Un giallo E un arancione Vabbè Ci sta Che poi quale mucchia le abbiamo Ma porca di quella vacca Eh mazza 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 ne una Oh accoppiatevi Ma è andato lui che sta facendo il colorante Allora Ok Ora dobbiamo scegliere E poi concludiamo l'episodio Ok Venite qua Vai Ora è la scelta dell'anno Mamma mia E io non faccio scegliere a noi Guardate qua Non raccogliete eh Ok Questa Sì Ah tipo la scelta del po' Eh sì No no aspetta Tu non hai capito Non lo raccogliete però Tu non hai capito Questa È quella No bellissimo Ragazzi Nei commenti noi vogliamo Che voi scriviate E fatelo appoggiare Ragazzi Studiatela questa cosa Dovete scrivere Colore e nick Per esempio Rosso look Arancione chip Giallo pepo A vostra scelta Prenderemo i tre commenti Il commento più votato da voi Per cui Oltre a commentare voi Votate i commenti degli altri E nel prossimo episodio Ci divideremo queste fantastiche Beh Ciao Ciao ragazzi Ciao